Ero in vacanza a Palma e un mio amico mi ha fatto vedere questo gioco E non ci potevo credere, non lo riuscivo a fare Il gioco è molto semplice, prendi i tappi e metti in mezzo al pollice e all'indice E con un semplice gioco di mani fai sì di tenere il tappo nel pollice e all'indice a posto Sembra facile ma non lo è per niente L'ho chiesto a qualche amico di provare a farlo E i primi momenti sono sempre abbastanza tragici Sì ci vuole un po', te lo faccio rivedere Per questo consiglio a tutti di imparare bene il gioco e usarlo per vincere qualche scommessa Fare una qualche bevuta